Un impegno senza unilateralismi a favore del dialogo, della solidarietà, della giustizia e della pace. Con questo obiettivo il coordinamento interconfessionale Noi Siamo Con Voi ha presentato presso il centro italo-arbo da Ar al-Ikma di Torino, presieduto da Yunis Taufik, il convegno intitolato Lo Straniero, in programma 22 marzo a Palazzo Lascaris. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, promotore e presidente del Comitato per i diritti umani della Regione Piemonte, il ministro degli esteri Angelino Alfano e il portavoce del Movimento Noi Siamo Con Voi, Gian Piero Leo.